Benvenuti su LetroPace.it, in questo nuovo tutorial vi spiegheremo come emulare Windows XT sulle vostre nuove macchine con Windows 7, Windows 8.1 e Windows Vista, anche se credo che Windows Vista nessuno lo abbia mai utilizzato e mai lo utilizzerà in futuro. Comunque, questo tutorial arriva in aiuto di chi ha numerosi vecchi giochi che non funzionano più su Windows 7, Windows 8 e compagnia, e funzionavano però sui vecchi PC con Windows XP. In questo caso, questo tutorial vi permetterà di ritornare a giocare a quei titoli senza alcun problema. Partiamo subito con le dovute precisazioni. In questo tutorial non vi spiegherò come installare Windows XP, ma vi spiegherò come emularlo attraverso una macchina virtuale, il che vuol dire che se non avete mai installato nessun sistema operativo, fatevi seguire durante la messa in pratica di questo tutorial da qualcuno che sappia installare un sistema operativo. In questo caso riuscirete magari senza problemi a fare tutto. Avremo bisogno di tre cose, un PC, non dico neanche tanto potente, ma normale, in grado di gestire una macchina virtuale, un disco di Windows XP e un poco di tempo e di dimestichezza. Per il resto sarà un tutorial come tutti gli altri, cercheremo di essere il più veloce possibile e il più specifici possibile. Mi raccomando, procuratevi una copia su disco o su ISO di Windows XP perché altrimenti non potrete installarlo. Infatti va tenuto a mente un piccolo concetto. Una macchina virtuale è semplicemente una macchina solo che virtuale, lo dice il nome stesso. Andrà trattata come un normale computer e quindi avviata, spenta, con tutti i dovuti crisi senza rischiare in questo modo di mandare in pappa tutto il sistema operativo virtuale, non il sistema operativo reale dove stiamo lavorando. Partiamo quindi ora con il tutorial. Ovviamente andate a scaricare VirtualBox, trovate il link in descrizione, che sarà necessario per questo tutorial. Però ovviamente per la ISO e le copie magari utilizzate una copia originale di Windows XP o se no, non lo so, usate Google, fate quello che volete, io non vi giudico. Quindi partiamo con le immagini e ci rivediamo tra un po'. Allora, cominciamo con l'installazione di VirtualBox 4.3.16. Premiamo su Next, controlliamo che tutti gli elementi siano selezionati e veremo avvisati che durante l'installazione la connessione a internet verrà riavviata. Premiamo su Install e durante l'installazione ci verranno mostrati anche degli avvisi sulle installazioni di nuove periferiche necessarie per il funzionamento corretto di VirtualBox. Installiamole tutte correttamente e proseguiamo. A termine dell'installazione ci verrà chiesto se lanciare direttamente il programma. Clicchiamo su Finish e avviamolo automaticamente. Una volta che sarà aperto dovremo creare la nostra nuova macchina virtuale. Chiamiamola Windows XP, selezioniamo il tipo di sistema operativo ossia Windows XP 32 bit e assegniamo l'innominativo che più ci interessa. In questo caso noi per semplicità la chiameremo Windows XP. Clicchiamo su Avanti, selezioniamo la memoria RAM da assegnare alla nostra macchina virtuale, in questo caso 512 MB abbassano e avanzano e creiamo subito un disco fisso virtuale. Scegliamo VirtualBox Disk Image, che sicuramente è l'hard disk virtuale migliore da utilizzare in questo caso. Scegliamo Allocato dinamicamente in modo che non occupi più spazio del necessario o di quello effettivamente utilizzato e clicchiamo su Avanti. Scegliamo ora la grandezza del nostro disco fisso virtuale sulla nostra macchina sempre virtuale. In questo caso gli abbiamo assegnato 10 GB che non verranno utilizzati totalmente fino al loro effettivo utilizzo. Ora abbiamo creato la nostra macchina virtuale, ovviamente dobbiamo installarci adesso però il sistema operativo, quindi clicchiamo tasto destro sulla nostra macchina virtuale, Impostazioni e andiamo su Archiviazione. Qui dobbiamo scegliere la ISO o il nostro lettore DVD con all'interno il disco di Windows XP. In questo caso selezioniamo Master Secondario e il lettore Host E che è il nostro lettore DVD con all'interno il disco di Windows XP. Clicchiamo su OK e avviamo la macchina. Ovviamente noi adesso non vi mostriamo come si installa Windows XP, come abbiamo detto è un tutorial che vi insegna come creare una macchina virtuale dando per scontato che voi sappiate già come installare Windows all'interno di un computer. Se non sapete come fare prendete Google e cercate. Questo non è il tutorial sull'installazione di Windows XP ma il tutorial sull'utilizzo e l'installazione di una macchina virtuale. Quindi noi procediamo a velocità sostenuta fin oltre l'installazione del sistema operativo Windows XP. Appena avviato il computer con un'installazione fresca di Windows XP ovviamente dovremmo configurare il tutto, quindi verrà controllata l'esistenza di una connessione a internet, verranno controllati gli user e le classiche impostazioni native come se avessimo un computer appena acquistato. Sistemiamo le varie impostazioni in modo da avere tutto configurato correttamente e arriviamo finalmente all'avvio di Windows XP. Come vedete ci troviamo davanti a un computer nuovo soltanto che virtuale. Sistema audio, sistema grafico e tutto quanto funzionano correttamente. Ora non ci resta che spegnere la macchina virtuale, tornare su archiviazione e stavolta invece che scegliere il lettore fisico selezioniamo la ISO del gioco che vogliamo portare su Windows XP. Andiamo a selezionarla, confermiamo con ok e avviamo nuovamente la nostra macchina. Ora all'interno di Windows XP troveremo come se ci fosse realmente un disco inserito la ISO che abbiamo precedentemente selezionato. Come potete vedere questo gioco che vi sto mostrando funziona unicamente su Windows XP e gira perfettamente sulla nostra macchina virtuale. Come avete visto configurare la macchina virtuale è semplicissimo. Installare il sistema operativo non ve l'abbiamo spiegato perché diamo per scontato che voi lo sappiate fare, soprattutto se state seguendo questo tutorial vuol dire che un pc lo usate e installare Windows XP è semplicissimo. L'unica accortezza è appunto considerare la macchina virtuale come una macchina reale e quindi trattarla bene, non installare cazzate, cioè configurarla nel dovuto modo e soprattutto non riempirla di spazzatura. Detto questo noi abbiamo spiegato come installare una macchina base per l'installazione di Windows XP. Mi raccomando utilizzate le ISO e cose ogni volta che riavviate la macchina. Non potete farlo a macchina già avviata, magari nelle versioni successive sarà possibile ma per il momento dobbiamo spegnere la macchina, caricare la chiavetta USB o il disco con l'interno del nostro gioco che ci interessa e riavviare la macchina. In questo modo la macchina vedrà la chiavetta USB o il CD e potremmo usufruire dei file di gioco. O altrimenti possiamo collegarci direttamente dalla macchina virtuale al sito internet dove possiamo scaricare il gioco che ci interessa e da lì scaricarlo all'interno della macchina virtuale, farlo partire e tutto quello che ne consegue. Abbiate sempre in mente che è una macchina, seppur virtuale è sempre una macchina, sempre un computer. Quindi quello che fate normalmente con un computer lo dovete fare normalmente anche su quello. Se il tutorial vi è stato utile scrivetelo nei commenti, se possibile magari vi daremo una mano se avete dei problemi, ovviamente non venite a scrivere, oh mio dio non mi parte, magari cercate di seguire bene bene il tutorial e se non ce la fate provate a scrivere qua sotto, cercheremo di darvi una mano. Ovviamente specifico perché in molti negli altri tutorial non l'hanno capito, non siamo dei tecnici, quindi se non siamo dei tecnici non possiamo darvi aiuto al 100% su tutto, noi cerchiamo di portare quella che è la nostra esperienza. Quindi se non vi possiamo aiutare non arrabbiatevi, semplicemente provate ad andare in giro con google, cercate un problema, scrivete il problema con google e magari al 99% risolverete. Quindi niente, grazie per aver visto il video, cliccate mi piace, condividete e magari mettete i preferiti, non lo so, fate qualcosa così ci aiutate a crescere. Ci vediamo oggi a martedì, quindi ci vediamo domani sera con chiacchiere da bar e giovedì con un felissimo, un retrospot, sabato con un retroplash e domenica con un retro top 10. Grazie per averci seguito e bella per voi! A grande richiesta ho deciso di trattare in questa puntata il Dolphin, anche se non ce ne sarebbe veramente bisogno perché fa gran parte del lavoro da solo. Infatti una volta installato sarà praticamente totalmente autoconfigurato, dalla risoluzione al fatto se abbiamo un dual core all'interro...